Precipitano con il parapendio sul Monte Rosa, morti due austriaci di 42 e 32 anni. Erano decollati stamattina con un gruppo di amici dalla capanna Regina Margherita. La destinazione era Gressonei. Attorno alle nove l'allarme, che ha assistito alla drammatica scena, ha parlato di un probabile problema alla vela. Dopo una rotazione a livello della parete est del Rosa, sono precipitati in cima al seracco della Via dei Francesi, poi un salto di un centinaio di metri sulle rocce sottostanti. Il parapendio ad un certo punto è rimasto incastrato tra le pietre. Questo ha consentito di individuare facilmente il punto in cui si trovavano gli sfortunati parapendisti da parte dell'elicottero 118 subito decollato da Borgossesia. Impossibile però il recupero da parte del velivolo, che non poteva utilizzare il gancio baricentrico per l'operazione, ma solo il verricello, chiamato in supporto all'Air Zermatt, che ha effettuato il recupero. Peraltro in una zona molto impervia e pericolosa anche per i soccorritori. Sono intervenuti in supporto gli uomini della stazione di Macugnaga del soccorso alpino decima delegazione Valdossola. Le salme dei due uomini sono state portate a Macugnaga e poi ricomposte all'obitorio dell'ospedale di Domodossola. Intervenuti anche i carabinieri macugnagesi.